Il posto abbiamo Gori Smone, che ha un'anima di specializzazione, poi abbiamo Gori Junior, poi abbiamo Maria, Brusti, abbiamo Ceminini e Alessandro, Natali, Gazzoli, Marco Feriani, che è un'anima di specializzazione, poi abbiamo Bartoli, Bartoli Roberto, da tutti conosciuti, e poi abbiamo Ceprini per finire, questa è la composizione della squadra di Gianni.